Giorgio Colli, nella nascita della filosofia, sostiene che la filosofia precedente a Platone, e forse anche a Socrate, è sapienza, o retorica. Come nel caso dei sofisti, non è filosofia. Noi facciamo tradizionalmente iniziare la filosofia con Talete? Settimo o sesto secolo avanti Cristo. Poiché è stato Aristotele a farlo nel primo libro della Metafisica, dando una lettura razionalistica del pensiero presocratico, invece Colli col suo lavoro storico-filologico analizzò i frammenti e le testimonianze dei pre-platonici. Ed arrivò alla conclusione che essi erano molto più legati alle religioni greche e orientale, ai vari culti misterici ed essendo nate in Asia minore, a diretto contatto con i persiani, sicuramente anche le cosiddette filosofie orientali hanno influenzato il pensiero greco pre-platonico. Per Colli solamente con Platone si può iniziare a parlare propriamente di filosofia, per quanto effettivamente i legami con il mito sono evidentissimi. Colli preferisce chiamare i pre-socratici pre-platonici per questo, a parte il fatto che alcuni di essi, come Democrito, erano più giovani di Socrate. Io non ho competenze storico-filologiche, non saprei come valutare le teorie di Colli, sta di fatto che prima di Platone effettivamente il pensiero era diverso. Va considerato però che Colli era uno studioso di Nietzsche, e queste teorie potrebbero derivare più che altro da un'interpretazione di parte. Infatti il titolo della sua opera si rifà esplicitamente alla nascita della tragedia di Nietzsche. I sofisti erano sicuramente retori avvocati, il loro obiettivo erano i soldi, allora non interessava la verità, per alcuni di essi come Protagore Gorgia nemmeno esisteva, per loro era vero ciò che riuscivano a far passare per vero con le loro argomentazioni in cambio di denaro o interessi politici. Oggi si tende a chiamarli filosofi perché il loro pensiero può risultare interessante. Alcuni di essi erano teorici dello Stato Democratico, ma come abbiamo già chiarito, pensiero e filosofia non sono la stessa cosa. Parmenide, ma soprattutto Pitagora, avevano una palese forma sapienziale. Parmenide narra che è stata una dea a rivelargli la verità con la V maiuscola, infatti era convinto che la sua teoria dell'essere fosse la fine del pensiero, per lui era inconfutabile, poiché egli aveva abbozzato i tre principi della logica aristotelica e fondato la teoria su di essi. Ma solo dopo circa duecento anni di discussione sul suo pensiero, dopo il Parmenicidio di Platone e il Platonicidio di Aristotele nasce la logica. Inoltre Parmenide è importante per avere distinto la goxa, letteralmente ciò che appare, che può essere tradotto con senso comune. Ma che per Parmenide era ignoranza totale e assoluta, dell'episteme, che letteralmente era conoscenza certa, noi traduciamo con scienza in altri contesti, ma per Parmenide è la verità assoluta. Parmenide nonostante credesse di aver ottenuto la verità ha avuto il merito di aver anticipato la logica e la distinzione tra doxa ed episteme, che è fondamentale per comprendere Platone. Pitagora aveva fondato una specie di setta misterica mistico-religiosa, dove la verità veniva rivelata solo agli iniziati e c'era l'obbligo del silenzio. Platone si rifaceva loro, a Cratilo, all'ego di Eraclito, e a Socrate, però allo stesso tempo li criticava duramente. Sicuramente da Platone in poi si può parlare di filosofia in senso stretto, su Socrate non saprei come esprimermi. Il personaggio che appare nei dialoghi di Platone è sicuramente un vero e proprio filosofo, anzi, forse nessuno più di lui, ma non sappiamo e forse non sapremo mai con certezza chi era veramente Socrate, visto che abbiamo poche notizie su di lui e sul suo pensiero, tutti da testimonianze che lo hanno interpretato a modo loro, Platone compreso. Con ciò non voglio dire che il pensiero sapienziale sia morto, anzi, non solo, in certi casi è stato importante. Quindi la filosofia è un avvicinamento progressivo a quella che dovrebbe essere la Sofia, cioè la sapienza e la verità, senza raggiungerla mai. La filosofia ricerca della verità, o del sapere, proprio perché non abbiamo né l'uno né l'altro. Se ce li avessimo non avremmo bisogno di cercare nulla di tutto ciò.